Buonasera a tutti, stasera siamo qua con il dottor Davide Baccarin e parleremo di esperienze premorte o quello che noi chiamiamo così. In realtà probabilmente sarebbe più giusto parlare di espansione di coscienza, ma lo scopriremo sentendo parlare il dottore perché parleremo prevalentemente di coscienza. Intanto aspettando che entriate ad ascoltare questo nostro dialogo, vi ricordo che se siete interessati all'argomento post-mortem, che cosa succede dopo la morte, avremo un altro incontro con Daniela Muggia sulla tanatologia e sull'accompagnamento alla morte con i sudetani. Seguite la pagina per avere la notifica di inizio evento. Stasera la serata è dedicata al dottore, avremo una mezz'ora con lui. Se ci saranno delle domande pertinenti a quello di cui sta parlando al momento, le riporteremo. Se ci saranno altre domande, tutte quelle che volete, ne faremo anche un'altra puntata solo per rispondere alle vostre domande. Quindi sbizzarritevi, non fatevi problemi, chiedete tutto quello che volete, noi raccoglieremo tutte le domande e avremo una serata dedicata. Chiaramente se il dottore saprà rispondere. Intanto ringrazio molto anche te Davide che sei qua con noi. Grazie a Dialoghi Sparsi per questo invito molto gradito. Grazie. Grazie a te, anche perché l'argomento ha suscitato molto interesse e quindi direi di partire subito a chiederti come è iniziato questo tuo percorso di interesse in questa materia molto particolare, soprattutto in Italia. Sì, grazie per la domanda. Io dico sempre quando mi viene chiesto questo che sono le esperienze premorte che sono venute in cerca di me, in questo senso. Io mi sono laureato in medicina a Padova e non conoscevo nulla delle esperienze premorte, cioè avevo una conoscenza prettamente televisiva, tanto per intenderci banalmente quello che si vede sul film Ghost, ecco banalmente, e quindi non ne sapevo nulla. Immaginati la mia espressione quando un professore dell'Università di Padova mi ha chiesto di fare una tesi sull'argomento, la tesi di laurea, che poi ho scoperto è stata la prima tesi di laurea sulle esperienze premorte fatta da un medico in Italia. Quindi siamo forse un po' indietro rispetto ad altri stati, in cui magari l'argomento è più oggetto di discussione e anche in alcuni casi di ricerca. E quindi sostanzialmente io volevo fare una tesi di laurea in ambito anestesiologico e mi è stata proposta questa. Devo dirti che non ho accettato subito, perché non ritenevo l'argomento inizialmente degno di interesse scientifico, cioè io ero partito con l'idea di fare una tesi di laurea in medicina come tantissime altre, non so, parlando degli effetti di un farmaco piuttosto che di una procedura di animazione piuttosto che dell'altra e mi trovo una cosa per me completamente nuova. E ricordo quei giorni perché ho chiamato un sacco di amici e io non ero per niente convinto, tutti mi hanno detto no no guarda è un argomento bellissimo, fallo fallo fallo, al che ho detto vabbè accetto. E qua la storia diventa per me piena di coincidenze che probabilmente coincidenze non sono. Nel senso che accetto questa tesi e inizio a fare una raccolta bibliografica perché inizialmente eravamo partiti con l'accordo con il professore che la tesi fosse sostanzialmente una tesi compilativa, cioè fare sostanzialmente una raccolta della bibliografia, cioè di articoli scientifici presenti al tempo, io mi sono reato nel 2007 e quindi era nel 2005-2006 più o meno, degli articoli scientifici esistenti al tempo sull'argomento, al che ho iniziato la raccolta di bibliografie, di articoli e ho iniziato a studiarli e avevo la presunzione che hanno tutti i dilettanti in tantissime materie, quella che dopo aver letto un po' di saperne. E quindi io mi ero creato tutta la mia bella idea sulle esperienze premorte, ritenendo che queste visioni che hanno i pazienti che talvolta sono a rischio di vita, altre vivono semplicemente, per modo di dire, un'abolizione della coscienza, ero assolutamente convinto che si trattasse di, passami il termine, allucinazioni causate da un meccanismo, ha un nome un po' strano ma era quello che si riteneva valido al tempo, allucinazioni indotte da una cosa che si chiama danno ecito tossico da glutamato. Perché sai bene o male tutti gli articoli che leggevo, verso quel punto puntavano sostanzialmente, dicevano che queste esperienze erano delle allucinazioni causate da un improprio rilascio di neurotrasmettitori dal cervello che in quel momento si trovava in una situazione di povertà sostanzialmente di ossigeno. Questo in poche parole. Al che apro un blog, apro un blog in cui inizio a scrivere, proprio con un semplice diario, in cui inizio a scrivere della mia tesi. E l'ho toccato con mano la forza di internet perché poco dopo sono stato contattato da una persona, un avvocato di Milano, che ricordo con grandissima riconoscenza e affetto, non so se posso dirne il nome, magari glielo chiedo e la prossima volta lo dico, comunque una persona assolutamente, in maniera assolutamente disinteressata mi ha detto guardi io sto vedendo il suo lavoro e sono molto interessato, se vuole le do una mano a trovare delle persone che hanno vissuto delle esperienze premorte. Quindi è stato un grandissimo aiuto, perché? Perché siamo partiti da un concetto che era quello di fare una raccolta di letteratura ad avere delle persone in carne e ossa, tette a tette, proprio a un metro di distanza con cui parlare, per cui io ne ho intervistate per la mia tesi di laurea circa una ventina, 20 se non ricordo, 20 o 21, ma le ho intervistate quasi tutte, non in videoconferenza perché nel 2007 ancora preso che era inesistente, ma proprio andando io in giro per l'Italia, perché alcune erano qui vicino a dove abito io, altre più lontano e quindi la tesi che prima era una costruzione di letteratura e basta è diventata veramente un'esperienza, e uso la parola esperienza sul campo e devo dirti questo. Io ricordo molto molto bene la prima persona che ho intervistato. Perché? Perché io ero, come tutti i principianti, convinto che quelle quattro robe che, sai il paradosso, mi sembra si chiami Dunning-Kruger, per cui uno ne sa poco e pensa di saperne tanto. Quindi io avevo letto la letteratura, insomma quelle quattro robe che c'erano in letteratura sulle esperienze premorte ed ero convinto di quello che ti dicevo prima, cioè che fosse che fossero visioni di un cervello morente e la finisce. Finché non arrivo di fronte alla prima persona che intervisto, che anche là abbiamo sviluppato un piccolo protocollo di intervista, perché non è mica semplice da studiare il fenomeno, nel senso che non stiamo misurando un valore del sangue, per cui mandiamo il sangue in laboratorio e ci salta fuori un valore. Qua dobbiamo capire come studiare il fenomeno? Cioè devi inquadrare quali variabili studiare, cosa è esperienza premorte e cosa non lo è banalmente. Non è semplice, perché molte persone in coma dicono di aver sentito qualcosa, di aver visto qualcosa. Allora a un certo punto bisogna iniziare a scremare, capire quale... Quindi abbiamo creato un piccolo protocollo di intervista che dopo abbiamo visto che per alcuni versi magari non andava bene, per altri sì. E devo dirti questo, che di fronte alla prima persona con cui ho parlato, come adesso sto parlando con te, quello che mi raccontava mi ha dato la molto umana e poco scientifica sensazione che lui avesse capito qualcosa che io non avevo capito e che ciò che mi stava raccontando non poteva essere spiegato col modello del danno ecito tossico da glutammato, piuttosto che andava di moda un tempo il modello dell'epilessia dell'ovo temporale che era stato proposto mi sembra da Blanche su Nature, ma potrei dare dei riferimenti sbagliati, adesso vado a memoria, vado a braccio, non ricordo. Comunque era al di là di questo, perché probabilmente le esperienze premorte ci mettono di fronte, come dicevi tu prima, ad alcuni aspetti della coscienza, degli stati non ordinari della coscienza, ai quali noi non siamo semplicemente abituati e non sappiamo neanche più di tanto come porci. Allora, mi piace molto che ci stai raccontando questa cosa, anche perché spesso volentieri i racconti ne puoi trovare su YouTube di persone che hanno vissuto questa cosa e tu rimani lì estasiato solo a sentirli a distanza, figurati di persona. Immagino che sia un'esperienza emotiva che ti trasforma, perché vedi una persona che vive diversamente. Poi senti medici che banalizzano quasi tra virgolette queste esperienze e tu non sai più come cosa pensare. A proposito di tutto questo, visto che stavamo parlando di visione medica della cosa, abbiamo una domanda di lara molto detta. Proviamo. Teyed, hai parlato di glutammato, lei invece chiede, visto che sappiamo che gli effetti della chetamina sono molto simili alle esperienze di premorte vissute da chi ha provato l'NDE, ad esempio il fatto di vedersi dall'alto a incontri mistici. No, nel senso che questo era un modello che era discusso parecchi anni fa. In realtà poi per il libro che poi successivamente ho fatto per un editore di qua vicino, di qua di Treviso, ho fatto un libro in cui ho approfondito anche un po' l'argomento, non tanto ma anche sentendo persone che avevano avuto esperienze dissociative con chetamina, con destrometorfano, con ibogaina e con l'ayahuasca e anche con i funghi psilobicinici, ma di questo non avevo scritto sul libro. Allora, le esperienze indotte da chetamina, per quanto ci è dato di sapere, venivano usate inizialmente, sto parlando se non sbaglio attorno al 2000-2005 più o meno, come modello per la spiegazione delle esperienze premorte. Perché? Perché hanno qualche tratto in comune, però avere qualche tratto in comune non significa che quello è il modello di spiegazione. Perché? Io prima parlavo di danno eccitotossico agglutammato perché i recettori che vengono, con cui interagisce, scusami, la chetamina, sono gli recettori NMDA e sostanzialmente dell'anedimetilaspartato e sono sostanzialmente quelli che poi vengono stimolati anche con il, sia dalla chetamina sia dal glutammato. Le esperienze a chetamina sono diverse dalle esperienze premorte. Cioè altre sostanze danno delle esperienze dissociative di espansione della coscienza che sono molto più sovrapponibili alle esperienze premorte. Le esperienze premorte non sono sicuramente causate dalla chetamina, in quanto la chetamina come farmaco anestetico ha uno spazio, fa parte di cosiddetti anestetici dissociativi, ha uno spazio di utilizzo estremamente ridotto e tantissimi pazienti, scusa la cuffia, il bello della diretta, e tantissimi pazienti oltretutto che hanno avuto esperienze premorte non hanno usato alcun tipo di farmaco. Quindi io direi che le esperienze da chetamina in qualche modo assomigliano lontanamente alle esperienze di premorte, ma teniamo presente che circa il 50% delle esperienze dissociative con chetamina sono di bad trip, cioè delle esperienze disforiche brutte, mentre oltre il 95-97% delle esperienze premorte sono delle esperienze che lasciano nel paziente dei ricordi, delle sensazioni che sono tutt'altro che negative. Non dico che sono tutte positive perché ci sono anche delle esperienze premorte estremamente negative che hanno degli impatti devastanti poi sul paziente, questo sì. Però il modello della chetamina si usava una volta, però devo dirti che per quella che è la mia umile esperienza non riesce assolutamente a spiegare nella sua totalità il fenomeno esperienze premorte, banalmente. Poniamo che... Prego, prego. Ok, allora parlaci un po' te, in che cosa consiste l'esperienza premorte, secondo la tua esperienza, secondo quello che hai ascoltato te e il tuo studio? Intanto c'è tantissima letteratura anche fatta molto bene e molto seria e molto ben strutturata. Storicamente si dice che il primo medico a occuparsi delle esperienze premorte sia stato un collega psichiatra americano, è il dottor Raymond Moody, con il suo libro sull'esperienza premorte, mi sembra che fosse, non vorrei dire una sciocchezza, ma di fine degli anni 70. Chiedo scusa se sbaglio qualche riferimento bibliografico, ma sto parlando a braccio, non c'è niente di preparato. E quindi c'è molta letteratura. Diciamo che generalmente per esperienze premorte si intendono delle esperienze che i pazienti riferiscono di aver vissuto, sottolineo di aver vissuto, perché quando si chiede a queste persone ma è sicuro o sicura che non si tratti di un sogno? La risposta è no, non era un sogno, un sogno è un'altra cosa. Quindi per esperienze premorte in generale si intendono delle esperienze che le persone hanno vissuto in stati di abolizione della coscienza, coscienza intesa nel senso di coscienza ordinaria come siamo noi adesso. Quando la coscienza si abolisce o per un incidente grave, ma a volte neanche per un incidente grave, una percentuale variabile di persone che oscilla secondo gli studi che si vanno a leggere attorno al 10-20%, ma dipende, dice di aver vissuto delle esperienze psichiche. Queste esperienze psichiche vissute hanno dei tratti comuni. Qua più o meno si riconoscono, non ricordo male, più o meno 3, 15-16 tratti comuni alle varie esperienze, ma di solito non sono mai rivissuti tutti, mai in parte. I tratti comuni possono essere, per esempio, quello che è l'aspetto più televisivo, passami il termine, delle esperienze premorte, per esempio l'incontro con una luce, l'incontro con persone defunte, l'incontro con un essere riconosciuto superiore o con degli esseri riconosciuti superiori, ai quali generalmente solo dopo l'esperienza viene conferita una connotazione di tipo religioso. Cioè è raro che se tu raccogli la testimonianza in prima persona e se la persona magari l'ha vissuta tutto sommato anche da poco, è raro che ti dica ho incontrato, invento Gesù piuttosto che la Madonna, piuttosto che Padre Pio, piuttosto che qualche altra figura magari. Guardate che adesso io ho detto queste ma non ho tirato a caso, ecco. Dicevo è raro che ti dia una connotazione religiosa, ti dice era un essere che io sentivo essere di un ordine superiore e dopo ti dice per me era, ok? Però quasi mai, non dico mai, ma quasi mai questi esseri superiori vengono identificati con una figura specifica di un credo religioso, ok? Magari è una reinterpretazione postuma. Alcuni sentono della musica, altri sentono dei profumi, alcuni hanno la sensazione per esempio di rivivere, di rivivere di solito, non rivedere, più frequentemente rivivere, scene della propria vita e in merito alle scene della propria vita. Magari qualcuno dice, beh magari non so, rivedrà il giorno del matrimonio, il giorno della laurea, il giorno, non so. No, di solito raccontano scene della vita di tutti i giorni che apparentemente insomma sono cose che succedono e le quali non facciamo neanche caso. Per esempio mi sono ricordato, ricordata che quel giorno da bambino o da bambina stavo giocando sul corridoio di casa mia con una pallina rossa, faccio un esempio banale, no? Quindi anche fatti che non sono magari eclatanti nella vita ma fanno parte della quotidianità. Alcuni rivivono questi avvenimenti, altri li vedono come si vede un paesaggio scorrere dal finestrino del treno piuttosto che un film sullo schermo. Di solito banalmente per quanto riguarda la visione panoramica diciamo della propria vita si è visto ma non si sa spiegare perché che riguarda soprattutto ma non solo le persone che hanno avuto incidenti, cadute e annegamenti. Però al momento non c'è una spiegazione che dice perché più frequentemente questi rivedano, passami il termine, il film della propria vita e altri magari meno frequentemente. Ok? Quindi ci sono questi elementi comuni, però devo dirti che quello che a me ha colpito di più è come queste persone descrivono la luce che vedono dall'altra parte. Poi magari se ci sarà tempo in un'altra puntata, in un altro momento, adesso come volete, magari approfondiamo anche alcuni di questi elementi che ho messo un po' là così in maniera da così da elenco ecco. Però una roba che devo dirti che a me ha colpito molto è quando per esempio, e questo devo dirti quasi invariabilmente perché ormai penso di aver sentito una cinquantina, sessantina di persone che hanno avuto esperienze premorte. Ok? E a volte parlando chiedo ma mi dice che ha visto una luce, mi descrive questa luce? E mi colpisce sempre perché molte di queste persone si fermano. A qualcuna scendono le lacrime dagli occhi e mi dice no, questa luce non ho parole per descriverla. Questo è un altro elemento dell'esperienza premorte, cioè che molto spesso chi vive l'esperienza premorte fa fatica a trovare le parole per condividerla. Perché sentendo i loro racconti dicono che quello che hanno vissuto, passami il termine dall'altra parte, è difficile da spiegare da questa parte, perché alla fine se ci pensiamo il linguaggio è un assieme di simboli condivisi. Certo, è proprio una struttura di comunicazione diversa. Perché per esempio, secondo me rende bene l'idea come spiegare a un cieco dalla nascita, come è per esempio il colore verde. Come fai? Lui non ha mai avuto l'esperienza del colore verde, ok? Come fai a spiegargli cos'è il verde? Ti mancano le parole perché manca l'esperienza comune. Questo è il discorso, no? Quindi molti fanno fatica a esprimere quello che hanno visto dall'altra parte e ti stavo dicendo della luce. Ecco, quello che a me ha colpito di più dei racconti di questi pazienti, ci sono tante robe che mi hanno colpito, ma è che molte volte quando dici, per favore mi spiega un attimo meglio questa luce, com'era? Come la luce del sole? Come la luce di una lampadina? Com'era? E molti si fermano, si vede magari la lacrima che scende dall'occhio e ti dicono questa luce era amore. Io dico quello che mi viene detto ovviamente, quindi faccio tra virgolette da tramite di quello che mi viene detto. Guarda, avevo giusto una domanda di Stefania che chiedeva se si percepisce amore e hai già risposto che generalmente le persone che ho intervistato dicono che percepiscono questa luce come un amore che li avvolge e che, ecco, è un altro elemento comune delle esperienze premorte che quasi tutti provano un enorme piacere. Questo piacere di solito lo sentono con questa luce che li avvolge e aumenta molto spesso con l'aumentare di questa luce che quasi mai è una luce che abbaglia o ferisce gli occhi, cioè se noi adesso guardiamo il sole non riusciamo a tenere gli occhi aperti di fronte al sole perché la sua luce è troppo forte. Queste persone non ti dicono la luce era così forte che mi bruciava gli occhi, non te lo dicono quasi mai. Io non parlo per assoluti perché più ne sento più vedo che ci sono sempre i casi un po' al limite. Quindi diciamo che la maggior parte, ecco, non tutti, ma la maggior parte non ti diceva, è una luce che feriva. Di solito usano dire questa luce era amore. Te la definiscono così e dicono no, non era la luce del sole, non era una luce nella lampadina, era qualcosa di completamente diverso che non ho mai visto magari. chiaramente invece ti chiede se come viene percepito il tempo in queste esperienze, se ne sei qualcosa? Grazie per la domanda perché stavo dimenticando di dire questo aspetto nell'elenco. Allora, il tempo di solito durante le esperienze premorte perde il suo significato che noi gli attribuiamo. Cioè capita che una persona che ti racconta la sua esperienza. Io guarda, ti dico banalmente come facevo quando stavo scrivendo la tesi di laurea, andavo a trovare queste persone, carta e penna, chiedevo il permesso se potevo registrare perché dopo magari ti perdi qualche parola. E capita che magari si riempissero 5-6 pagine con un racconto e dici ma lei che sappia quanto tempo è stato perché magari poi si chiedono le cartelle, se la roba è successa in ambito ospedaliero magari è anche documentata, quindi hai anche, diciamo, delle pezze di appoggio per collocare un po' quello che è accaduto, no? Magari scopri che hanno avuto, non so, una fibrillazione ventricolare per un minuto, sono stati ripescati subito perché è successa in unità coronarica, sto dicendo degli esempi, e ti raccontano un'esperienza che magari io riempio 5 pagine a prendere appunti e a trascriverla. Quindi di solito il tempo viene o non viene proprio percepito o scorre molto più velocemente, molto più lentamente di come lo percepiamo noi, però di solito non viene percepito come lo percepiamo noi adesso, in base a quello che mi dicono. Sai un'altra cosa, scusami che la aggiungo, un altro elemento che caratterizza l'esperienza premorte, però come ti dicevo non è che sia invariabilmente presente sempre, cioè ce ne sono circa 15-16, ma se ne ripetono 4, 5, 6, 7 in base all'esperienza. Un altro elemento è quello che la persona ti dice a un certo punto dell'esperienza sono stato o sono stata rispedito o rispedita indietro. Cioè è come se si arrivasse a un confine che qualcuno o qualcosa non vuole che la persona avarchi e quindi la rispedisce indietro. E di solito quando ritornano indietro, diciamo passami in termini nel proprio corpo, sentono la sensazione di pesantezza o dolore che magari non sentivano durante l'esperienza premorte. E' un presente che in alcuni casi queste persone per quanto ne sappiamo hanno avuto la loro esperienza premorte magari in seguito a un incidente per esempio automobilistico, magari sono persone politraumatizzate e quindi anche con dei dolori estremamente forti. E durante l'esperienza premorta ecco i dolori non vengono percepiti. Un altro elemento che caratterizza l'esperienza premorte è che quando le persone vedono il loro corpo, e non è sempre detto che lo vedono, da una prospettiva diversa, a volte sopra, a volte da lontano, hanno l'impressione di vedere un abito dismesso. Cioè ti dicono guarda sì vedevo il mio corpo, però sì era là, ma non mi interessava più di tanto. Ecco. Quindi grazie per la domanda Clara perché altrimenti mi dimenticavo di dire questa cosa nella foga del discorso. Ricollegandoci agli ospedalizzati, mi ispiro a un'altra domanda di Lara. Quando un soggetto è collegato a delle macchine che misurano l'attività del cervello e misurano anche quando il cervello oggettivamente è spento. C'è un momento in cui si può dire che è veramente spento? O comunque anche se le macchine non lo rilevano c'è ancora un po' di attività e da questo può derivare questo tipo di esperienza? Allora, diciamo innanzitutto questo. Generalmente la maniera più, passami il termine, è più semplice per verificare l'attività del cervello e qua so già che non sto parlando precisamente ma mi interessa più farmi capire che essere chiaro. Cioè scusate, mi interessa più essere chiaro e farmi capire piuttosto che essere troppo tecnico e preciso. Di solito l'esame, passami il termine, che viene impiegato è l'elettroencefalogramma. L'elettroencefalogramma misura l'attività praticamente solo della corteccia cerebrale, quindi della parte più esterna del cervello. Possiamo dire noi che il cervello è spento? Noi possiamo dire che l'elettroencefalogramma è piatto e quindi la corteccia cerebrale in quel momento non sta lavorando. In alcuni casi ciò potrebbe non essere sufficiente addirittura magari per porre una diagnosi di morte cerebrale, tanto è vero che c'è anche un altro metodo per verificare se il cervello è spento o morto che si tratta di un esame di medicina nucleare che si fa iniettando un isotopo debolmente radioattivo del glucosio per vedere se c'è attività metabolica delle cellule corticali. Non è così semplice dire il cervello è morto, anche perché l'elettroencefalogramma come ripeto indaga l'attività della corteccia cerebrale, ma non di tutto il cervello. Noi per quanto ne sappiamo abbiamo sempre pensato, anche io guarda ci mancherebbe altro, abbiamo sempre pensato che la coscienza, e anche qua definire la coscienza non è cosa facile, sia, passami il termine, un prodotto dell'attività della corteccia cerebrale, ma le esperienze premorte ci dicono che probabilmente la coscienza è anche qualcos'altro, perché altrimenti non si spiegherebbe come una persona che magari ha, magari anche per un periodo breve, l'elettroencefalogramma piatto, comunque in quel periodo, magari documentato anche strumentalmente, riesce per esempio a raccontarti per filo e per segno di cosa le è successo attorno e poi queste testimonianze sono verificate dalle persone che c'erano là. Ora, se la coscienza è unicamente un prodotto della corteccia cerebrale con un modello cosiddetto di riduzionismo biologico, quindi siamo solo neurotrasmettitori, bisogna che un neurotrasmettitore in qualche modo sia variato e quindi che la persona abbia visto con gli occhi aperti quello che è successo, perché non abbiamo altro modo di vedere quello che ci succede attorno se non con gli occhi, ok? Però quando la persona per esempio ha gli occhi chiusi, è in sala operatoria, succede qualcosa, va in arresto, viene ripescata, magari ti dice guarda ho visto dei racconti per esempio, parlo così a braccio, che magari ho raccolto nel corso degli anni, ho visto per esempio la anestesista biondo entrare di corsa e c'era effettivamente l'anestesista biondo che dopo quando chiede ai colleghi sia entrato di corsa perché è successo questo, questo e questo e la persona te li riferisce. Come può la persona riferirteli se aveva gli occhi chiusi e se la corteccia è unicamente, scusate, se la coscienza è unicamente un prodotto della corteccia? È difficile perché probabilmente ci sono altri modelli che possono spiegare questo fenomeno, ma il cosiddetto modello riduzionismo biologico per cui io sono solo una serie di neurotrasmettitori e di acidi grassi e via discorrendo che compongono la mia corteccia cerebrale, probabilmente non è adatto a spiegare questo fenomeno, probabilmente forse, sono tutte teorie, siamo qualcosa di più. Il problema è che qua andiamo su un campo che è molto difficile da esplorare perché si dipana in più branche della scienza, la medicina, la filosofia e vorrei dire anche della spiritualità, della religione se forse non faccio un passo troppo lungo. Ma infatti su noi di Dialoghi Sparsi dedicheremo una giornata intera dalle nove e mezza alle tredici, tutto sulla coscienza il 24 ottobre, visto che l'argomento è corposo. Grazie dell'invito anzi, grazie dell'invito anche per quel giorno, cercheremo di dare del nostro meglio per passare dei messaggi che magari sono interessanti o che magari possono scaturire qualche pensiero. Esatto, parlando di visione c'è chi parla anche di una visione a 360 gradi, quindi aumenta proprio la difficoltà di comprendere come possa funzionare una visione così fuori dal corpo. Sì, io per esempio molte volte, magari lo vedremo insieme anche quando faremo quella giornata sulla coscienza, vi faccio un po' un'anteprima, amo far vedere delle foto della terra vista dal satellite e a fianco metto i passi di un'esperienza premorte. L'esperienza premorte che cito è un'esperienza premorte è avuta da uno psichiatra che è Jung, ok? E se non ricordo male, chiedo scusa sempre se sbaglio le date o i riferimenti perché vado proprio a braccio, quindi posso dire qualche imprecisione. Non ricordo male, lui aveva avuto l'esperienza premorte nel 1944. L'ha pubblicata in un libro, se non ricordo male, negli anni 60, ma la prima volta che l'uomo ha visto con tanta e tale precisione la terra dallo spazio è stata verso la fine degli anni 60, ok? E quindi viene da chiedersi ma come ha fatto questo a descrivere in maniera così dettagliata la terra, quindi altro che visione a 360 gradi ma da molti chilometri di altezza, come ha fatto questo a descrivere in maniera così dettagliata la terra perché c'è proprio una corrispondenza bionivoca tra ciò che lui dice e le foto ad alta risoluzione dei satelliti che chiunque di noi può vedere usando Google Maps, quindi il libro è quello di controllare. Come può esserci una corrispondenza così stringente? Perché io posso pensare anche che si tratti di una coincidenza, ma è quantomeno improbabile. E di questo ne parleremo anche il 24. Senti c'è un'altra domanda da Sandro Torresan che ti chiede se sei qualcosa, se ci puoi dire qualcosa in merito agli esperimenti AWARE e AWARE 2. Allora, devo dirti che non sono completamente ferrato in materia, ma da quanto ne so se non mi sbaglio attualmente non hanno dato risultati concludenti. Sostanzialmente cerco di spiegare un po' l'ottica di questa ricerca. Un anestesista, se non ricordo male, Samparnia, se non ricordo male, ha detto, aspetta un attimo, proviamo a fare un esperimento. Dunque, se queste persone vanno oltre il loro corpo, perché capita molte volte che per esempio anche i bambini descrivano per filo e per segno un intervento chirurgico, ok? O magari alcune peculiarità che ci sono state nel loro intervento chirurgico, questo sia adulti che bambini, no? Quindi viene anche poco probabile che le abbiano imparate su YouTube o su Internet o dove si va di solito alla ricerca delle conoscenze, no? Allora dice, se queste persone si distaccano dal loro corpo e vedono la sala operatoria, vedono il letto, vedono, a volte vedono l'intero ospedale piuttosto che viaggiano nei corridoi dell'ospedale, per cui riescono a descriverti, se è successo in ospedale, alcune riescono a descriverti magari dove si trova quella sala piuttosto che quell'altra, senza che ci siano mai state. Oppure chi c'era fuori in sala d'attesa, tanto per dirti, no? Allora, sostanzialmente la logica era questa, perché noi non mettiamo sopra ai letti dei monitor che producano delle immagini a caso, perché se queste persone si distaccano dal corpo, dovrebbero saper riferire cosa c'era sul monitor che era girato in una posizione in cui loro non potevano vederlo. Però, da quanto ne so, ma mi posso sbagliare, questi studi non hanno dato al momento risultati concludenti. Più di questo, al momento non so rispondere. Tu ti sei occupato anche di persone non vedenti che hanno avuto questo tipo di esperienze e descrivono cose che hanno visto pur essendo non vedenti nella vita corporea, nelle esperienze in India e vedevano. Io direttamente non ho avuto, nelle 50-60 persone più o meno, con cui ho avuto occasione di parlare direttamente in questi anni, persone non vedenti dalla nascita. Quindi questa conoscenza non è conoscenza diretta, ma è conoscenza da letteratura, però da quanto riporta la letteratura ci sono persone non vedenti dalla nascita che descrivono, per come possono, per come riescono, per esempio il luogo dove sono, quando hanno l'esperienza premorte. Anche qua capisci che il modello del danno citotossico agglutammato, che è quello che poi si rifà a quello che si pensava essere colpa della chetamina, non è sufficiente, perché come fa uno che è cieco dalla nascita a descrivere quello che gli sta succedendo attorno? Secondo me è difficile. E nel rientro nel corpo, ci chiede Massimo, le persone, avevi già accennato qualcosa, rientrano per loro scelta o anche per costruzione? Stavi parlando tipo di un limite, c'è qualche entità che decide forse? Quasi tutte, quelle che ho sentito io, non rientrano per loro scelta, perché loro si trovano in una situazione, almeno quelle che ho sentito io, ricordiamoci che c'è una piccola percentuale di NDE molto negative, ma penso 95-97% sono positive. Queste persone di solito vengono mandate indietro contro la loro volontà o sentono di essere arrivati a un punto che non possono varcare. Di solito il rientro nel corpo viene vissuto con un fatto traumatico, perché queste persone stavano in un posto in cui stavano benissimo e si ritrovano in un posto in cui tanto bene magari non stanno più. Ricordo per esempio il racconto di una mamma che diceva, a me dispiace dirlo perché dice mi sento egoista, però in quel momento, anche se io sapevo di avere due figli, la famiglia domandava, io stavo così bene, mi sentivo come se fossi ritornata a casa dopo un lungo viaggio. Per cui io volevo stare là, poi mi hanno mandato indietro. Chi l'ha mandato indietro? Non lo so, però mi hanno mandato indietro. Oppure qualcuno dice sono arrivato a un punto, io capivo che non potevo andare oltre, oppure ho incontrato, qualcuno dice, un essere superiore che mi ha rispedito indietro. Di solito rientro nella dimensione corporea, passami il termine, viene vissuto come un evento sgradevole dal maggior parte delle persone. E la domanda che molto spesso ci si fa, sentendo anche le tue conferenze che ogni tanto dai questo spot di NDE negative, anche Stefania ci chiede, queste NDE negative, anche se sono una piccola percentuale, ci puoi dire come sono? Qualcuno te le ha raccontate? Allora, generalmente io penso di averne sentite uno o due, quindi poche, quindi non ho grande esperienza in materia. Generalmente sono delle visioni infernali, che hanno una connotazione emotiva estremamente profonda, quindi queste persone vivono un terrore intenso, di solito proprio terrore, non è paura, è terrore, vivono delle situazioni che le terrorizzano, hanno delle visioni che le terrorizzano, e contrariamente a come accade a persone che hanno esperienze premorte, passami il termine, positive, queste persone ne ritornano con una grande paura della morte, a volte psicotizzano proprio questo terrore, cosa che succede molto meno alle persone che invece hanno una NDE positiva, perché nella maggior parte dei casi queste persone, e questo è un altro tratto che definisce l'NDE, hanno un approccio diverso rispetto alla morte, rispetto alla spiritualità. Generalmente, io uso sempre la parola generalmente perché più divento vecchio, meno parlo per assoluti, però nella maggior parte dei casi queste persone non hanno più paura di morire, e vivono la morte come un passaggio, un punto di passaggio, di solito viene descritto da queste persone, e molte ritornano con una spiritualità diversa. Quando intendo spiritualità non c'entra niente la religione, nel senso che queste persone magari danno priorità, una scala di valori a un modo di concepire la vita che prima non avevano, un senso di connessione col tutto che magari prima non avevano, che non è necessariamente legato a un credo religioso o all'altro, perché le esperienze premorte si manifestano, si viste in maniera pressoché costante, in tutti i ceti sociali, in tutti i credi religiosi. Allora, di questo cambiamento di vita, te l'ho detto, se ne vedono su YouTube, e fanno molta impressione a vederli. Quello che mi chiedo io invece è una domanda un po' più personale per te, a te, conoscere queste esperienze, toccarle con mano, ti ha cambiato? Eh sì. Il tuo rapporto con la morte, con la paura della morte, è cambiato con queste conoscenze che hai avuto sulla tua pratica medica? Eh sì, decisamente sì. Perché interessarsi di esperienze premorte o venire a contatto con le esperienze premorte probabilmente ti fa capire che il mondo in cui viviamo va un po' oltre dell'orizzonte che noi riusciamo a vedere. Come dicevo, quando abbiamo organizzato questa piccola intervista, questo piccolo colloquio, è come quando mi avete gentilmente invitato alla vostra conferenza sulla coscienza. Hanno cambiato molto, sì, e io di solito mi presto per quanto riesco, per quanto posso a queste iniziative, perché di solito sono un po' di aiuto per anche lenire la sofferenza di un lutto. Lutti che tutti proviamo nella vita, perché penso non ci sia nessuno che non abbia perso un padre, una madre, un fratello, una sorella o qualcuno. Devo dirti che io di lavoro faccio il medico e le esperienze premorte sono una cosa che è venuta in cerca di me. Però mi capita, per esempio, non so se sai che con Lara Peviani, che è una videomaker, abbiamo fatto un… cioè lei ha fatto, io ho portato solo la mia collaborazione, un documentario sulle esperienze premorte, anche questo è visibile gratuitamente su internet. Se vuoi posso mettere poi il link qua sotto? Sì, sì, se vuoi, sì, mi sembra, se non sbaglio, che l'indirizzo sia ndedocumentario.it. Sì, sì, è su YouTube, è uno degli ultimi che ho visto. Ed è visibile gratuitamente da tutti, perché… ecco, una cosa, per esempio, che a me fa piacere e che mi spinge un po' a dedicare un po' del mio tempo a questo è che ogni tanto mi arriva una mail o mi arriva un messaggio su Facebook dicendomi, guarda, ho perso la mamma, ho perso il papà, ho perso la persona cara, ho visto il documentario, ho visto il tuo lavoro, ho visto… ho letto di queste esperienze, questo mi ha un po' aiutato a rendire il dolore. Ecco, quindi sì, sto interessando le esperienze pre-morte e ha chiaramente influenzato il mio modo di fare medicina fin dall'inizio, perché me ne sono interessato ancora prima di essere medico, quindi con la tesi di laurea. Influenza tutt'oggi il mio modo di fare medicina e influenza tutt'oggi quando mi capita il mio modo di accompagnare le persone. E questo ti rende molto umano, è anche importante che ci siano dei medici che almeno ammettano e che vogliono parlare di questa cosa, visto che è molto più diffuso di quanto ci immaginiamo. Sono tante persone che hanno provato questa cosa, spesso volentieri ce l'abbiamo anche nelle nostre famiglie, i nostri vicini di casa, tra amici che magari non ne parlano, perché sembra ancora troppo strano, e invece forse farebbe bene parlarne anche per avere un'altra visione della vita e di ciò che noi chiamiamo morte. E capire se effettivamente c'è da avere paura, invece prenderla come una soglia, un passaggio, o comunque un'esperienza della coscienza, di cui parleremo il 24. Questa sera ti ringrazio, so che oggi avevi poco tempo, quindi lascio. Io ringrazio molto voi per l'invito e la piacevole conversazione, grazie. Spero di essere stato chiaro, di aver fatto troppi errori. Sei stato chiarissimo. Se ci sarà un'altra occasione, magari se qualcuno ha piacere di fare qualche domanda, magari non so, la passa a voi. Sono già qua, prevalentemente vertono sulle sostanze chimiche che possono indurre questo tipo di esperienze. Volentieri, perché ci sono degli elementi interessanti. Casomai, magari una delle prossime sere, facciamo un'altra chiacchierata assieme. Ringrazio chi ci ha ascoltato, ringrazio per le domande e a presto. Grazie mille, grazie a tutti per essere stati qui con noi. Ricordo il 24 che avremo ancora Davide Vaccarin, parleremo di coscienza. Scrivete qua sotto comunque le domande, tutte quelle che vi vengono in mente che faremo il prossimo appuntamento con Davide solo per rispondervi. Grazie mille ancora e buona serata. Buonasera. Grazie, grazie dottore. Grazie a voi. Ricordo che avremo anche altri incontri. Ricordo ancora quello sulla tanatologia e l'accompagnamento alla morte con Daniela Muggia. e poi abbiamo anche in previsione un incontro su karma e fisica quantistica che penso che anche questo sia molto legato a questo tipo di esperienze e a come funziona il cervello e alle altre varie esperienze. Ti lascio andare dottore, grazie mille ancora a tutti. Buonasera. Grazie, buonasera.